Ho le munizioni! Carica armata! Sei me! Eccolo! Ma forse non lo sanno con chi hanno a che fare, Norli. Ma nessuno gliel'ha detto, Ita Maverick chi è? Questo stronzo è mio! Ti dai un passaggio a lui! Ehi, chiuso medico! Eccolo! 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 BAM! 9 a 2, Norli, 9 a 2. Stella di servizio argento. Vabbè! Speriamo che la sto registrando la partita, Norli. Ok! Te vedo! Presi! BAU BAU! Troppi canipulciosi da queste parti! Mamma mia! Punteggio 12-3, Norli! Oli Sniper sto giocando! L'Italian Sniper! Is back! Bravo! Bravo! Che compagno di merda, porca droga!